Io darei subito la parola a Peppe Di Mangrazio, così magari vediamo se alla fine, prima che lui parta ci avanza. Io non so come parla Peppe Di Mangrazio, però parla Peppe Provenzano e lo farò con la chianezza che di solito cerco di avere nelle cose, lo dico al Presidente di Confindustria, se non è chiaro il governo, per lui, proverò ad esserlo io, anche dicendo quello che penso davvero rispetto alle cose importanti che sono tanti per qui stasera, per le quali io voglio ringraziare Michele che ha organizzato l'incontro, l'amministrazione comunale che ci ospita, perché le politiche di sviluppo non si fanno indietro a spugnare il ministero, non si fanno nemmeno con la mente illuminata di... No, ma poi di adesso... No, ma non mi hanno mandato la parola... Allora, no, no, perché non ho capito quello che mi devi dire, adesso provrò a risponderti prima, però poi puoi parlare lo stesso, no, poi puoi parlare lo stesso, ma non si fanno dietro la scrivania di un ministero, non si fanno solo in qualche centro di ricerca dove ho lavorato, si fanno soprattutto con i soggetti dello sviluppo e i soggetti dello sviluppo sono il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro, per questo io vi ringrazio oggi per questa occasione di confronto. Non so, io dico di più, io dico che rispetto a una stagione che hanno chiamato di disintermediazione, che è la crisi della democrazia e la fine della politica, io penso che le politiche di sviluppo si costruiscano con il mondo dell'impresa e con il mondo del lavoro e per parte mia però lo voglio dire ai sindacati regionali, io l'ho fatto perché abbiamo avuto numerose occasioni di incontro con i vertici nazionali, proprio sui temi del mezzogiorno e anche con Confindustria e con le altre organizzazioni di categoria per le quali, proprio sui temi del mezzogiorno, hanno raggiunto un grado di coesione molto importante, c'è un documento che hanno prodotto che per me è importantissimo e io ne riprendo molti aspetti. Il mio compito è quello di provare a colmare i divari territoriali, e i divari territoriali sono tanti, noi parliamo di regione cerniera ed è una prospettiva bella, io stesso oggi sul giornale provo a spiegare il senso e l'opportunità, ma una regione fa la cerniera se c'è una politica che si pone l'obiettivo di ridurli questi divari, se invece la politica come in questi anni purtroppo per tanti anni quei divari li allarga, la regione cerniera ci finisce in mezzo, e questo sta accadendo oggi in Italia, non solo si è allargata la frattura storica tra nord e sud, ma accanto alla frattura storica tra nord e sud se ne accompagnano altre, una tra est e ovest, questa dorsale appenninica che si sta scopovalando, che si sta impoverendo, che sta diventando sempre più un fossato che separa i due mari, la distanza tra centro e periferia, tra grandi città e campagne industrializzate, tra aree urbane, aree interne, aree montane, questo è il contorno dentro il quale si trova proprio l'Abruzzo, l'Abruzzo è in mezzo a quest'Italia che è un po' divisa in croce tra questi divari. E poi c'è un altro tema essenziale dell'Abruzzo che ne fa il suo elemento di forza, ma anche in questo momento la sua caratteristica nelle regioni del Mezzogiorno, che è la sua grande vocazione industriale, ma la vocazione industriale che è stata a lungo un elemento di forza in questa stagione di crisi paradossalmente è diventato un elemento di difficoltà in una regione che ha dovuto affrontare situazioni di sofferenza sociale molto importanti, in cui c'è un grado anche di… è un po' paradossale tenere insieme l'alto grado di industrializzazione che c'è l'Abruzzo rispetto alle regioni regionali e anche rispetto a alcune regioni del centro nord e i tassi di spopolamento, di emigrazione giovanile che testimoniano il fatto che le occasioni di lavoro anche qualificate che dall'industria arrivano ai servizi avanzati non sono sufficienti. Quindi questo è quello che dobbiamo mettere a fuoco. Io penso che queste non siano solo priorità dell'Abruzzo, proprio perché l'Abruzzo si trova in mezzo al cuore di questi problemi, che sono problemi italiani, siano priorità per l'Italia. E quando sto lavorando in queste ore, in questi giorni a piano per il sud, dopo aver fatto alcune cose nella legge di bilancio, di cui vi dirò, perché appunto non bisogna, specialmente da ministro, io ho fatto per una vita lo studioso, non bisogna fare le analisi, bisogna trovare le soluzioni e qualcuna è già in campo, altri stiamo lavorando in questi giorni. Questo piano sud deve essere un piano per l'Italia. E vedete, lei diceva all'inizio in Nord che non traina, la verità è che nessuno più traina nessuno. Cioè o abbiamo la capacità di avere uno sviluppo equilibrato, di riattivare il motore interno dello sviluppo, che è quello che è mancato in questi anni, l'illusione di poter contare, anche qui in Abruzzo lo dico, su una piccola quota di imprese che esportano, che stanno sui mercati, che fanno registrare grandi performance, come dicevi tu all'inizio, è un'illusione. E vale per l'Aldruzzo, vale per l'Italia. Dobbiamo attivare il motore interno di questo sviluppo. Servono anche investimenti, servono investimenti pubblici, che in questi anni sono crollati, come leva indispensabile per l'attivazione degli investimenti privati. Gli investimenti privati ci sono stati spesso, ci sono stati nel quadro di un disinvestimento pubblico, che dura da vent'anni, oggi abbiamo il livello di investimenti pubblici più basso della storia. Ed è un miracolo che ancora ci sia la tenuta di un tessuto imprenditoriale che spesso l'ha fatto anche senza che il contesto lo favorisse. Per questo nella legge di bilancio ho voluto affermare con forza un principio che non è solo di giustizia per me, che già comunque mi serve, ma anche di efficienza economica, cioè che gli investimenti pubblici bisogna farli in maniera proporzionale alla popolazione, quelli ordinari, in modo che poi le risorse che abbiamo, e sono risorse europee, risorse di politica e di chiesione, possano essere aggiuntive, perché se vuoi recuperare un divario ci devi mettere qualcosa in più, perché se non ci metti qualcosa in più, quel divario resta sempre al punto di prima. Però il problema non è solo, qui c'è un punto che lei sollevava che è decisivo, non è il problema solo di mettere le risorse in bilancio, perché poi bisogna spendere queste risorse. E il problema dell'Italia è questo, cioè non è solo che mancano le risorse che sono proprio come sono state, come sono mancate in questi anni al studio, ma è poi che devi avere la capacità di metterle a terra, di realizzarle, e questo bisogna farlo soprattutto in un nuovo rapporto con gli enti locali, perché è lì che le risorse poi non arrivano, è lì che una pubblica amministrazione che si è impoverita per anni di blocco del turnover, anche di risorse tecniche in grado di fare i bandi, di fare i progetti, di portarli avanti. Adesso non so se è il caso di questa bellissima città di Celano, ma sicuramente è il caso di tanti comuni al sud, e poi non li riesce a realizzare. Allora la vera innovazione che io sto provando a fare in queste settimane, in questi mesi, è proprio quella di costruire un nuovo rapporto con gli enti locali, da un lato nelle procedure che siano standardizzate, dall'altro l'assistenza tecnica, io ho una cosa che si chiama agenzia della coesione territoriale, che deve tornare sul territorio, deve mettersi al servizio delle amministrazioni, deve mettersi con i piedi per terra, non deve limitarsi a verificare le procedure dietro la scrivania. Come l'Abruzzo si colloca all'interno di questo quadro? Secondo me si colloca, e lo dirò anche a alcune iniziative che lo riguardano precisamente, si colloca proprio perché è una regione che vive le forme nuove che stanno assumendo i rivari territoriali in Italia. C'è il primo tema decisivo, che poi è quello che è avvertito di più dalle nostre comunità, noi abbiamo passato gli ultimi anni a parlare solo di migrazione, quando invece la vera emergenza sociale, è quello che divide le famiglie, che crea un problema alle prospettive di sviluppo dei luoghi, è l'emigrazione, l'emigrazione soprattutto dei giovani, e nasce anche a livello di offerta scolastica, perché se poi non trovi sul mercato del lavoro le occasioni all'altezza delle competenze, anche delle legittime ambizioni che si maturano in un percorso di studi avanzati, te ne vai e cominciano ad andarsene sempre più precocemente, già al tempo della scelta universitaria, al momento in cui devono fare la laurea magistrale, anche per un sistema di finanziamento dell'università ordinario che ha sistematicamente penalizzato le università meridionali, e su questo c'è una battaglia condivisa per fortuna con me e dal Ministro Fioramonti per rivedere quei criteri, e lo faremo già quest'anno. Poi c'è la questione decisiva in questa regione, in questa regione da cui vengo io in mezzo alla Sicilia, che è quella di spezzare l'isolamento, l'isolamento delle persone, l'isolamento dei territori, le infrastrutture, le infrastrutture che sono anche infrastrutture sociali, e cioè quelle che garantiscono un sistema di servizi, scuole, sanità, centri di assistenza, perché questo è il primo elemento della politica di coesione, che è soprattutto una politica di coesione tra persone, tra comunità, e la mancanza di servizi, il fatto che se stai in un comune in un'area interna per avere l'ambulanza c'hai il bisogno di 40 minuti in più rispetto a vivere in un centro urbano, perché queste sono le distanze che poi incidono sulla vita delle persone nel primo intervento, questo fa la differenza, e questo è il primo elemento di disgregazione sociale, e poi c'è il tema delle infrastrutture ovviamente materiali, delle infrastrutture di trasporti, lì c'è un lavoro che sta facendo la Ministra De Micheli, che è quella di provare a sbloccare le opere, perché i finanziamenti sulle opere che ci sono, ma persino sull'asse ferroviario di cui parlavamo prima, Pescara-Roma, sta nel contratto di programma di RFI con lo Stato, il tema è velocizzarlo, e questo vale per tutto, vale per tutti gli investimenti, ma vale soprattutto per gli investimenti infrastrutturali, perché è l'unico investimento buono, questo lo sa chi lui fa, imprese, è quello che fai nel tempo giusto, se ogni volta continui a rimandarlo, il fattore tempo è decisivo, soprattutto è decisivo oggi che stiamo vivendo questa condizione di difficoltà, che abbiamo bisogno di mettere in pulso, di mettere benzina in questo motore che si deve accendere. C'è il tema delle strade, e io guardo soprattutto la viabilità secondaria, questa è una regione che storicamente aveva fatto nello scorso secolo un investimento che era non ferrovia, ma gomma, non ferro, ma gomma, e ha una dotazione infrastrutturale mediamente superiore alla media delle altre regioni meridionali, ma questa è una regione che come le altre, ci torno sull'autostrada, dove avevo il confesso decisivo, come un problema enorme di viabilità secondaria, una viabilità secondaria che è stata abbandonata anche da una riforma prettorosa, a mio avviso forse persino sbagliata nelle province e per la parte negli anni scorsi, con l'incapacità di raggiungere quella razionalizzazione che si voleva, per cui qui sono enti che portavano una funzione, parlavamo prima di scuole e tanto più della viabilità secondaria, sulla quale un'opera di manutenzione straordinaria è quella che bisogna fare. Io sto, voglio, lo sto dicendo a tutti i ministeri, smetterla con quelle risorse che sono ferme lì e poi servono per riscontrare progetti europei, risorse nazionali che teniamo mobilizzate perché anche nessuno può spendere per il problema di cassa. Noi dobbiamo riprogrammarle e riprogrammarle anche su questo, su un'opera di manutenzione straordinaria della nostra viabilità, anche in accordo con l'ANAS che pure giustamente dice ma come lo facciamo, anche di riclassificazione di alcune dorsali che legano le direttrici nazionali, anche alcune strade statali. Questo è un tema secondo me decisivo, così come c'è la questione delle autostrade. Noi qui stiamo parlando di trasversalità, la trasversalità si fa anche e soprattutto con il collegamento. Io però questo vorrei dirlo, non è stato scontato mentre si parla di revisione delle concessioni, di tutti i discorsi che sono di là da venire, anche fare una bandaglia per bloccare l'aumento delle tariffe. Io lo so che non è abbastanza rispetto al costo che vive una popolazione che è tutti i giorni legata alla città, all'area metropolitana di Roma di attraversare continuamente questa strada. Non c'è quello che è stato un primo segnale di non continuare a pesare su chi lavora, sulle fasce medie della popolazione su cui ricade maggiormente questo tema. C'è anche lì però un problema enorme di manutenzione, anche quello è un tema di sbloccare, velocizzare su questo guardate è il mio cruccio, io ho l'ansia non di fare delle buone programmazioni su cui sono convinto che delle idee ce le abbiamo ma il tema è di mettere a terra odis di investimenti. La questione della trasversalità su cui voi vi siete caratterizzati è una questione decisiva. Se oggi guardate la regione unitaria che è andata meglio in tutti questi anni uno pensa a Milano la Lombardia la regione che è andata meglio è stata l'Emilia Romagna non solo anche a mio avviso per una buona amministrazione sicuramente regionale ma è stata anche andata anche meglio perché proprio è una regione trasversale e sul tema della trasversalità ha fondato un modello di sviluppo quindi questo è un tema cruciale che riguarda come non mai non l'Abruzzo ma l'Italia in questo momento perché la vicenda del corridoio iberico balcanico non è un tema dell'Abruzzo è un tema che riguarda l'Italia in cui Cività Vecchia che è questo porto a cui voi guardate con grande attenzione e importanza può ritrovare un nuovo ruolo una nuova funzione un nuovo rilancio non solo legandosi a Vantona che è quello che mi interessa a voi ma anche legandosi a Ravena passando con Fiumbino guardando diciamo a tutta l'Italia centrale visto è oggi uno dei temi con Fiumbino insomma Fiumbino e Liorno all'Italia centrale questo è uno dei temi che diciamo ha già oggetto del negoziato con la commissione la revisione delle reti arriva al dicembre del 2021 la richiesta di fare città vecchia portocorre è già partita perché oggi purtroppo ad oggi portocorre non è e arriverà allora la definizione al 31 dicembre 2021 la definizione di città vecchia portocorre perché è allora che la commissione rivede i criteri queste sono diciamo per un elemento di chiarezza perché riguarda poi l'altro tema che è delle ZES che voi collegate ma sono due cose che possono andare insieme ma che sono concettualmente secondo me anche diverse diciamo è un tema che bisogna chiarire quello è diciamo il punto di arrivo però questa regione prima di parlare delle ZES vorrei dire che ha una centralità su altre grandi questioni che sono al centro dell'agenda di governo giustamente voi sentite dire Green New Deal e io stesso vi dico vabbè ma che cos'è questo Green New Deal questo Green New Deal è il fatto che oltre ad essere la regione con il più alto tasso di industrializzazione voi siete anche la regione con il maggior numero di parchi naturali con un patrimonio di biodiversità enorme che è un elemento di ricchezza che in questi anni purtroppo non è stato secondo me a mio avviso non per responsabilità regionale ma come paese non è stato al centro di un disegno di sviluppo non solo perché un pezzo dell'impresa un pezzo dell'industria questo percorso va fatto già da solo senza che ci fosse una politica che andava in quella direzione ma noi siamo andati a vedere la parte di stamattina che ha fatto degli investimenti straordinari è una delle poche realtà che produce brevetti in Italia proprio sui temi del riciclo dell'innovazione ambientale eccetera per questo hai bisogno di una politica che faccia questo che leghi per esempio che dia una nuova centralità alla dimensione agroindustriale che pure in questa realtà ha un suo ruolo decisivo lo dico perché biodiversità è ambiente non è solo diciamo l'ambientarismo diciamo vecchio stile come ce lo ricordiamo oggi per esempio in primo luogo a proposito di infrastrutture un grandissimo investimento infrastrutturale perché cos'è il Green New Deal se non un'opera di riassetto del territorio e cos'è il Green New Deal se non l'idea di fare un grande piano di prevenzione del rischio sismico idrogeologico nei nostri territori anzi una delle cose sulle quali sto lavorando anche se non è di semplice fattibilità è che nella nuova programmazione dei conti europei che inizia dal 2021 al 2027 invece di fare piano operativo nazionali facciamo un piano operativo nazionale sulla prevenzione del rischio nei territori perché quello è quello che qui è mancato io lo dico guardando voi a quello che avete vissuto che io conosco anche per ragioni familiari diciamo così sui temi della ricostruzione peraltro in corso di conversione è un decreto sisma che dovrebbe migliorare e rafforzare anche io spero con un nuovo commissario che dia un nuovo impulso ai temi della ricostruzione nel nostro paese diciamo un processo che si deve però emancipare dalla logica dell'emergenza e avere una strategia per un paese che è forse tra i sicuramente tra i paesi europei ha più alto rischio sismico e che subisce purtroppo è la pronaca drammatica di questi giorni disastri che chiamiamo naturali ma che sono dovuti invece alla nostra incuria alla nostra incapacità di avere una identificazione urbana all'altezza dei fenomeni e soprattutto un mutamento climatico che va affrontato anche in questo modo anche con politiche questo significa l'innovazione innovazione che si fa in tante realtà del mezzogiorno che dobbiamo valorizzare che dobbiamo ricordare anche in chiave di apertura al mondo perché al mondo ci si apre anche così ci si apre con politiche di innovazione che poi trasferiscono tecnologia non solo alle medie e grandi imprese che ce la fanno da sole ma poi al tessuto di piccole e medie imprese che da solo invece purtroppo non ce la fa e su questo io poi ti voglio dire qualcosa che già c'è nella legge di bilancio l'apertura al mondo al Mediterraneo a questo mare che abbiamo dimenticato ha nelle ZES forse lo strumento sicuramente di maggiore impasto però io lo voglio dire con grandissima nettezza oggi parliamo di questo e quindi è inevitabile dare questo peso questa rilevanza io credo però che si stia nascendo lo dico da uno che ha lavorato nell'istituzione che ha lanciato per prima dieci anni fa il tema delle ZES e le battaglie per le ZES nel mezzogiorno si sta creando da un lato un'aspettativa e dall'altro un'illusione di un potere di palingenesi di queste ZES di tutti i problemi meridionali ma non è così non possiamo trasformare il mezzogiorno intero in una ZES non possiamo trasformare tutte le aree mi chiedete le ZES le zone franche urbane le zone economiche montane le zone franche tutte le zone eccezionali il mezzogiorno non deve più campare soltanto di eccezionalità non possiamo immaginare aree in cui non vale più niente le regole facciamo tutto eccezionale perché lo sviluppo non si fa così abbiamo bisogno di fare le cose ordinarie farle a ogni livello ogni amministrazione non mischiare tutto insieme c'è una strategia per le aree interne che non c'è da con la strategia le ZES non servono a fare lo sviluppo territoriale non sono in mano a un presidente di regione che dice adesso ci metto pure quel territorio o quell'altro comune perché me no ma mettimi pure nella ZES che ci possa andare un'impresa e gli faccia lo sconto fiscale perché non è a questo che servono le zone economiche speciali le zone economiche speciali si sono costruite per legge è in una trattativa con la commissione che ha voluto un porto core per le ZES come punto di riferimento della zona economica speciale proprio perché in quelle ZES e solo in alcuni porti bisognava fare un investimento la capacità di attrarre dei grandi investimenti questa è stata la logica con cui noi abbiamo realizzato le ZES in Italia io non devo difendere niente del passato perché non le ho fatte io ma spiego la logica invece queste ZES sono diventate diciamoci la verità anche un po' nella percezione nel racconto che sta facendo anche questa sera l'idea di fare politica territoriale non è così non funziona così le ZES si servono allo Stato quando va all'estero quando fa il commercio internazionale per parlare con i grandi investitori e per dire venite nel mio porto nella mia area retroportuale venite a fare un grande investimento ci colleghiamo con il resto del mondo ci diamo una strategia questo è la ZES e per questo io le voglio velocizzare io ho trovato dei ritardi enormi anche sulla ZES a Bruzzese a me non interessano le responsabilità e sono convinto che bisogna accelerarle ma proprio perché la ZES a Bruzzese ha una sua conformazione particolare noi abbiamo chiesto delle precisazioni che sono necessarie a far funzionare quello strumento cioè capire quali sono i messi funzionali con alcune realtà proprio per come è stata configurata una ZES la cui proposta viene dalla regione il mio impegno è ad accelerarla e lo farò non ti posso dare la data perché l'amministrazione non funziona così e non sarei serio se ti dicessi il 31 dicembre c'è la ZES perché questo dipende anche adesso dalle risposte che ci dà la regione io sicuramente ci metto tutto l'impegno a velocizzare perché io nel 2020 le voglio fare partire queste ZES e le voglio fare partire anche con un commissario che non è che non mi interessa diciamo nominare il commissario ma perché io dico l'autorità portuale ha un suo mestiere da fare e deve continuare a fare il suo mestiere che non è un mestiere semplice l'autorità portuale soprattutto dopo la riforma dell'autorità portuale ma hai bisogno di qualcuno che invece faccia questo lavoro che si assuma la responsabilità che sa il processo di semplificazione amministrativa all'interno della ZES chi lo sta facendo? l'autorità portuale si occupasse di fare la zona franca doganale a proposito di quello che serve nelle teste e integriamo gli strumenti perché questo è diciamo un punto in cui si fa anche la politica di sviluppo e si dà una sua dimensione ora l'idea di rimettere in discussione la proposta regionale che è arrivata e di riappliare Miter perché diciamo vogliamo legarla oggi alla dimensione della trasversalità per come l'avete immaginata prima è un rischio proprio per diciamo il tema che c'è però a me la proposta è regionale io la devo valutare io penso che invece l'obiettivo che dobbiamo avere oggi è velocizzare e attuare la ZES e non escludere che domani proprio questa zona economica e speciale si possa integrare meglio con la sfida molto più ampia di cui abbiamo parlato della trasversalità e non lo escludo perché io spero che questa revisione delle reti TNT istituisca finalmente questo pezzo mancante di corridoio iberico balcanico spero che il porto di Civitavecchia venga riconosciuto porto Corre e quindi abbia assumo una dimensione una importanza nella dimensione europea che non ci faccia diciamo riguare tutta la procedura e spero che questo aiuti io tra l'altro non sono nemmeno contrario a che le zone economiche strutturali si possono fare in alcune aree del centro nord del centro come Civitavecchia ma anche del centro nord nei giorni scorsi ho avviato ho fatto un emendamento per riservare una zona logistica semplificata nell'area del Polesine non solo per i drammi naturali ma perché quella è un'area di crisi complessa che ha bisogno di strumenti molto simili di certo l'unica cosa che non posso fare è come dico non possiamo fare del mezzogiorno intero un'area ZES perché si perderebbe il vantaggio dello strumento non possiamo fare tutti i porti italiani nelle zone economiche speciali perché altrimenti diciamo il ritardo di decenni di disinvestimento nei porti meridionali in particolare non lo riusciremo a colmare ma comunque questo è solo un pezzo di una strategia perché già oggi l'impresa e il lavoro io lo dico sempre non sono oggetto di politiche specifiche che per me sono la premessa e sono la confusione di ogni politica di sviluppo e se questo ve lo voglio dire perché è giusto che si sappia perché poi purtroppo si discute di quanto ridigliamo al governo di quello che pensa uno di quello che ha detto l'altro e poi quello che c'è concretamente nelle misure molto spesso non si vede e anche le persone informate che dovrebbero essere beneficiari di questi strumenti non lo sanno le leggi di bilancio a proposito di politiche per le imprese abbiamo rifinanziato lo sbatto con i fondi di sviluppo e coesione 675 milioni per il credito di imposta per investimenti che può attivare 2 miliardi di investimenti privati per le imprese che innovano e questo facendo un'opera in cui sono andato a vedere le risorse che non erano spese nel fondo di sviluppo e coesione per liberare risorse ordinarie in contato dove lo dico ai sindacati sono andate ad aumentare ancora di poco per me perché secondo me l'anno prossimo dobbiamo fare di più la riduzione del carico fiscale sugli stipendi medio-bassi è abbattito da 2 miliardi e mezzo e sono arrivati a 3 miliardi perché il credito di imposta per investimenti l'abbiamo finanziato con fondi FSC l'anno prossimo bisogna fare di più ma non è solo questo abbiamo fatto un credito di imposta rafforzato in ricerca e sviluppo perché possa fare quegli ricercatori che si formano anche qui noi dobbiamo provare a inserirli direttamente nell'impresa quello ti consente di assumere con lo sgravio abbiamo rafforzato la nuova Sabatini al sud queste sono tutte misure che incinano per l'80% al sud perché queste risorse hanno questo vincolo di destinazione così come un altro tema a proposito del grande divario che qui la CNA ha sallevato che è decisivo cioè noi abbiamo una disuguaglianza di cui non parla mai nessuno che è la disuguaglianza tra le imprese ma abbiamo anche bisogno di fare politiche che non solo aggredino non solo creino filiere e rete perché questo è anche uno dei temi inelutibili una sfida che il mondo della piccola impresa si deve assumere perché se non fai rete se non costruisci filiere oggi purtroppo non ce la fai ma abbiamo fatto anche un fondo per la crescita dimensionale di queste imprese che è decisivo è un fondo si chiama Cresce al sud che sarà gestito dalla banca per il mezzogiorno che dovrà avere il compito anche di stabilizzare un sistema del credito meridionale che è un sistema che purtroppo raccoglie da poco e raccoglie da poco anche per questo motivo anche per una fragilità del tessuto delle imprese che ha bisogno di crescere e questo è una sfida che bisogna fare non è che io faccio il mio dopo il tuo no bisogna farlo insieme ma bisogna accompagnarlo questo processo ma poi ci sono le politiche che sono più attente ai territori lo dico qui agli amministratori e chiudo che la sto facendo già longissima un fondo per la costruzione di infrastrutture sociali per 300 milioni che integra anche quando le infrastrutture sociali sono state fatte che non vanno avanti che è finanziato in maniera inversamente proporzionale alla popolazione di riferimento questo è un criterio nuovo che io ho voluto non solo perché vengo da un piccolo paesino e so la difficoltà di stare nei piccoli comuni che ho voluto inserire perché noi abbiamo sempre un criterio di ripartizione di allocazione delle risorse che guarda alla popolazione ma in questo modo i piccoli comuni e i comuni medi non ce la fanno male e se non dai un segno in quella direzione quel divario che oggi è un divario anche urbano con ricadute politiche molto molto corti non lo recuperi e in questo quadro di una nuova politica di attenzione ai territori c'è il rilancio della strategia per le aree interne in legge di bilancio abbiamo raddoppiato le risorse che consente di inserire aree interne che non rimaste escluse da quella che è stata una sperimentazione bellissima ma che è durata troppo a lungo e che deve diventare invece una politica immediata una politica che riguarda questi luoghi una politica ordinale in cui i luoghi si possano riconoscere persino identificare perché c'è anche un tema proprio come dire l'identità di queste aree interne che va valorizzata e di parte preservata e che non si può fare ognuno lo fa da sé con la sua sagra eccetera lo fai innanzitutto migliorando la qualità della vita di quei luoghi e bisogna farlo con una strategia integrata perché devi decidere dove ha il flesso scolastico se in tutti i paesi non lo riesce a gestire e devi decidere invece dove i presidi sanitari possano arrivare più facilmente alla popolazione e questo lo fai insieme noi ci mettiamo le risorse ma questa strategia la costruisci insieme costruisci insieme anche un sistema di servizi che deve essere identificato perché noi parliamo sempre solo delle reti di costruire figuratevi sono d'accordissimo ma a volte basta anche avere un servizio in più un pullman che passa da quella città una corsa in più una navetta che ti collega alla stazione ferroviaria perché è così che si incide nella qualità della realtà non aumentare i pedaggi delle autostrade ci siamo battuti per bloccare l'aumento delle tariffe ma è una battaglia che veniva da questi territori io lo dico questo perché e chiudo davvero investire sul sud così come investire sulle aree interne colmare questi divari non è un tema che riguarda solo un principio di giustizia di equigiar ma riguarda davvero la possibilità di mettere in campo uno sviluppo più forte più robusto più equilibrato c'è chi vuole dipingere la discussione che c'è in corso oggi come un'alternativa ci sono quelli che sono per la redistribuzione ci sono quelli che sono per la crescita no io sono per il riequilibrio delle politiche per il riequilibrio degli investimenti anche un po' di redistribuzione perché quello serve a mettere in campo una crescita più solida più robusta un sviluppo più durevole la capacità di generare quella ricchezza il lavoro laddove le potenzialità sono maggiori ma sono inespressi anche perché manca una politica che le fa emergere questo è diciamo il compito che io mi assumo come ministro per il sud della coesione territoriale ma che è anche un po' il filo conduttore della politica del governo che con timidezza cerca di invertire la rotta e ancora poco io lo so però penso che abbiamo fatto bene a disinnescare un'IVA che incideva per 540 euro sulle famiglie altro che aumentare le tasse questo è abbiamo evitato quell'aumento delle tasse che fino all'estate nessuno diceva sarebbe stato possibile detto questo le politiche di sviluppo non si fanno lo dicevo all'inizio non si fanno non basta un governo fare uno sviluppo dei territori non basta nemmeno un ministro che ci crede o che ha studiato questi temi eccetera per fare questo c'è bisogno mai come oggi di un di una spinta anche sociale e la spinta ci viene da chi tutti i giorni vive la fatica di dare risposte ai cittadini sui territori e mi riferisco alle amministrazioni locali mi riferisco ai sindaci ai consiglieri comunali mi riferisco a quelli che con fatica stanno cercando di rimettere in piedi anche la vita dei partiti come fa Michele e non è un compito semplice ma avere diciamo dei terminali dove vai a parlare dove vai a arrivare le cose e anche un pezzo di presidio democratico che in questi anni è mancato perché quando chiudevano le sezioni di partito è una democrazia che si è cominciata a incoverire si fa soprattutto con il protagonismo che vedo in questa sala e di cui vi ringrazio delle forze sociali del mondo dell'impresa e del mondo del lavoro che mai come oggi sui temi dello sviluppo sui temi mezzogiorno hanno un interesse comune e una volontà comune che è compito e dovere della politica provare a raccogliere per una sfida di cui dobbiamo essere all'altezza grazie 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 grazie